Benvenuti al nuovo appuntamento del Tgweblis del Consiglio regionale della Basilicata. La legge che prevede variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione ha suscitato giudizi diversi da parte dei consiglieri regionali. Per Bradascio si è cercato di portare avanti progetti importanti, soprattutto in materia sanitaria e socioeducativa, offrendo un aiuto concreto alle famiglie. Castelgrande ha parlato di un atto teso a risolvere problemi che da tempi attendevano risposte e che stanze a somma in diversi settori, tenendo nel giusto conto l'eseguità delle risorse a disposizione. Dello stesso avviso Cifarelli, secondo il quale la manovra finanziaria ha guardato non solo alle emergenze, ma è riuscita a dare risposte a diversi ambiti della vita economica e sociale del nostro territorio. Di parere contrario Rosa, contrario in particolare alla scelta di attribuire ulteriori fondi al Consorzio di sviluppo industriale di potenza. Per anni, dice, abbiamo denunciato lo sperpero di risorse pubbliche da parte del Governo regionale, nell'attesa di un piano di risanamento mai partorito e alla luce di perdite che si sono moltiplicate. Oltre alle variazioni di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato il cosiddetto collegato alla legge di stabilità regionale 2017, che contiene misure in materia di sanità, governo del territorio, agricoltura e trasporti. Tra le disposizioni si segnalano la regolamentazione unitaria di tutto il sistema delle strutture socio-sanitarie a ciclo residenziale e semi-residenziale, l'autorizzazione alla realizzazione di lidi dedicati ai soggetti con disabilità motoria ed intellettiva e l'istituzione dell'anagrafe agricola unica regionale. Abrogata la norma sui vitalizi ai consiglieri regionali della nona legislatura. Il presidente Pittella ha chiesto all'Assemblea un passo indietro per sgomberare il campo da sospetti e ridurre il solco tra istituzioni e cittadini, pur ribadendo che con l'emendamento approvato nella seduta del 27 giugno non si ripristinava ma si disciplinava con maggior rigore un diritto esistente. Per Perrino e Leggeri la scelta di ritirare una norma che facilitava l'accesso alla percezione dei vitalizi per alcuni consiglieri della nona legislatura è una delle rare azioni sensate di questa legislatura, in un momento in cui la credibilità istituzionale della regione basilicata e ai minimi storici. Sull'argomento precedentemente era intervenuto anche il presidente dell'Assemblea Mollica, osservando che con la disposizione sui vitalizi era stato solo disciplinato in maniera più stringente un istituto già previsto. Introdurre i criteri integrativi rispetto a quelli strettamente patrimoniali previsti dall'ISEE per l'accesso ai servizi pubblici è quando chiedono i consiglieri Napoli e Castelluccio con la proposta di legge per l'istituzione del fattore famiglia Lucano. Una legge per la famiglia di altissima valenza sociale, spiegano, per consentire la giusta ponderazione di elementi di criticità familiare che il meccanismo dell'ISEE non sempre riesce a cogliere. Permangono le difficoltà emerse negli ultimi anni nel rapporto fra cittadini e istituzioni, ma in Basilicata aumenta il desiderio di partecipazione dei cittadini e vengono ritenuti positivi gli strumenti previsti dal nuovo Statuto della Regione. E' quanto emerge da un'indagine quantitativa su percezione e giudizi sull'attività amministrativa del Consiglio regionale, condotta nel marzo 2017, con interviste telefoniche a un campione di 1.500 lucani adulti dalla società IPR Marketing. La maggior parte dei cittadini ritiene che debba essere la Regione, insieme agli enti locali, ad avere l'ultima parola su materie quali l'ambiente e l'uso delle risorse naturali. E' tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento e per la prossima edizione.